Una volta che sei diventato maestro una cosa, ritorno ad essere allievo, perché chi non migliora automaticamente peggiora. Questa è la mia introduzione a un nuovo percorso che abbiamo studiato nell'anno nuovo, proprio per dare risposta ai tanti che si sono formati all'interno della scuola di specializzazione manageriale in comunicazione e problem solving strategico. Ma non solo per chi ha fatto la scuola, ma per chi negli anni precedenti ha avuto la possibilità di partecipare a quelli che venivano chiamati master di primo livello, master di secondo livello in comunicazione e problem solving. Ora, tutti noi sappiamo che il modello si basa su che cosa? Sulla ricerca e intervento, quindi sappiamo che è molto importante continuare a fare ricerca e intervento e quindi evolvere il modello. Questo che significa però? Che negli anni, attraverso proprio la sperimentazione, attraverso il nostro lavoro, il modello e le tecniche mano a mano si sono venute ad evolvere, alcune si sono migliorate veramente tanto nella loro efficacia ed efficienza. Per questo abbiamo costruito questo percorso che è un percorso di formazione e di supervisione che porta il titolo proprio alla maestria del problem solving strategico, cioè la formazione voluta al modello. Tutto questo è stato costruito in questo percorso per darvi supervisione ai vostri casi, per vedere dei video di interventi realmente svolti dal team di Nardone Group, quindi non solo da Giorgio Nardone, ma dalla sottoscritta, da altri docenti, da Susanna Mazzeschi, da Roberta Protoprevide, da Donato Frigotto e da tanti altri che fanno parte dello staff per darvi più possibili strumenti che voi possiate agire nelle vostre realtà. Quindi vi aspetto nei prossimi mesi e mi auguro che come me continuate a pensare che dobbiamo continuare ad essere quello che vogliamo vedere che il mondo sia. Quindi chi non si forma si ferma e chi non migliora peggiora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.